L'augurio è che questo Natale, nonostante tutte le difficoltà, porti serenità perché nelle nostre famiglie ce n'è molto bisogno e anche della nostra città e che poi il 2015 possa essere un anno che ci vede carichi di speranza, di energia e anche di voglia di stare insieme perché la comunità di Padova vive di relazioni e insieme ce la possiamo fare anche a superare la crisi.